beh ma fede sto facendo multi kill hai attivato fede? ovvio salve mamma ma non so che scordi posso fare su sta mappa io proprio mamma mia non li subisci di mettere qualcosa o? è morto eccolo qua dov'è? ehm tanto per cambiare si si casualmente io te moriamo in testa non succede mai aspetta Alex fammi un po' penare Alex fammi un po' penare dai con quella roba in faccia guarda guarda un po' non mi riconosce nessuno ho capito che è l'ambito però eccolo eccolo lo so che si sta tirando è morto te la hai? che armi hai? è un D4 e non te la comunque è sotto raga lo so che è sotto no è sopra mare sennò vedi che io non c'ho il setbox no no io c'ho full speed della spazio di storia guarda molti tutta la tour oh è questo vuole morire Fallo saltare Alex è destra Destra Ma è la Sono in tanti La Minchia che testa è T'aiutato Alex Ma Che cosa Cazzo di più ci faccio a questo Guarda dietro il figlio mi è ucciso Questa è un po' quasi visto Hitman Guammo mi giro lo spacco Abbi la porta 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 Eeeh non mi fa nulla Perché ho like anche nel DHP Ho le hack Guarda mi muore apre porta mai sopra vorabobo vorabobo eccolo qua in sopra ma guarda 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 tende di avvicinarsi tende di avvicinarsi E' DECCOLO I'm empty per me ha la specialista per me sta morendo cioè ha giocazione di R15 di solito un turco a me non so spara a caso magari me lo senti e non mi ammazza leva di leva che ti fa un HS che non te lo diventichi più fermo Pish abbiamo vinto bravo team win per me è la specialista gioca solo di R15 quindi chi cazzo è che gioca di un'arma a qualsiasi distanza Alex quindi tipo vedi i turchi sparano a caso di tango forse non ci sono a caso quando sentono un rumore quindi per forza se aveva il tango sparava a caso Tentino vedi che stanno sparando a caso vedi? ma perché sono stupidi un popolo di ignoranti c'è una gran parte allora c'hanno una piccola parte che è piena di soldi ed è una parte sveglia l'altra ora è stante non fanno niente fanno quello kebab o fanno la fame l'User ha eserato il tuo canale ciao ciao umbbi aspetta che questo qua vuole morir lo facciamo saltare esatto ora io guardare su super però è tuo un usuki ma 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 nooo 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 nooooo nooo nooo te lo tento te lo tento te patti che espontano le tassi interrumpa te patti che spontano le tassi interrumpa te patti che spadeco Ho esportato le macro in clan Tozzo di merda Dio santo No veramente se li dico che un moz da 7 euro e 90 penso che cambia idea Gli farei anche la foto Dio santo c'è due tasti per sbaglio Ma io santo Fede Perché poi lago ecco perché lo vedevo andare a scatti Ma che cosa che è successo? E' colpa mia? Si ma non è possibile ma che colpa tua? Ah no Come ha detto Fede? Non so lo vedevo andare a scatti e ho detto ma che cazzo è lago Poi guardo Pingo Eh non ti lasciare con me perchè ti faccio dentare negro Ah si? Vieni vieni Eh due delette su tre in testa Vieni 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 l'incoglionito to cazzo qua vieni Ti haro la mamma Ti haro la mamma vieni coglione Ti faccio vedere i succivetti E tu? E tu? E tu? E tu palla pulito? Le balls Le balls Niente No Le balls Le balls Employee questo è fissato, questo è macro eh ma tu tiene le macro le macro Ale e come ti... a fede è rimasto e la natura è di mezzo La fede, la fede, la fede Quelle stai nascosto, stai nascosto Quella fede Fede è buono La casa, sayonara to the world Mi fa paura quando hai coche qui Poi te vi morire in testa Ricordati che te vi morire Ma... Eh vabbè, tra l'altro non l'ho neanche visto Ho morto tutti i round Tutti i round No team wins